Sì, sì, lo so, ho visto il film. Unità di crisi, sono il maggiore comodo. Dov'è Jenny? Ma è quel grigno sulla faccia, eh? Colpa tua e del tuo padre, quello. Un geniere. Un genna. Ora, ascolti, mia figlia è stata ravita. Jenny! Tutta terra, al riparo! Radurate gli uomini, tutti ai posti di combattimento! Operazione Tacchino in casseruola, capitano. Sì, signore! C'è un ingegnere. Gennaro. Un esperto in tecniche di guerriglia, un uomo che è il migliore, con i fucili, con i coltelli, a mani nude anche. Un uomo addestrato ad ignorare il dolore, ad ignorare il freddo. E' che per lavare la rì, la rì, con te la rì. Questo è per l'occhio nero di mia figlia! E' nostra figlia. Madonna l'errore! Chiama il 911, dia la polizia di fare presto, un uomo sta per essere ucciso. Pensavo ai genni tutti i giorni. C'è vai là dentro! Mi giochi il detentivo! Credo che le spiegherebbe che cosa ha in mente. Io che dovrei dire? Mi godevo una ricca sospensione. Fumavo, bevevo, mi ricoglionevo di televisione. Porca bocca, sono in un film! Ehi paparelli, biglietti per il barbecue col generale Schwarzko? Tutti esauriti, sergente. Invitato a prendere parte all'ultimo assalto al crimine. Il nome dell'operazione in codice è... Retata della Ficcia. La Ficcia è un'aspirapolvere, non posso dire altro modo. Oh, mi perda! Io vedrò il mio papà! Lei è uno scagnozzo. No, mi limito a fare il tirapiedi. Per sopravvivere con guerra, bisogna saper combattere. Quanta grazia! Le cose vanno di bene per io, eh! Ma che se è pazzo! Quando de' compagno de' sangue ci sarà... Un bagno de' sangue. Significa vendetta. Una mossa e spattolo il coniglietto. E' il momento della vendetta. Potevo ucciderli tutti. Potevo uccidere anche te. Signore, ci saremo. Tempo permettendo.